La Inese, nell'ottica di migliorare continuamente i propri prodotti all'interno della pista e fuori dalla pista, ha trovato una nuova opportunità di collaborazione con il Misano World Rescue Team. Abbiamo strumentato, utilizzando l'elettronica e la sensoristica del DR Racing, questo nuovo tipo di barella e siamo riusciti, tramite una campagna di raccolta dati, a capire e ad analizzare quali sono le sollecitazioni che il corpo, una volta adagiato sulla barella, subisce, sollecitazioni che derivano dal trasporto, dalla zona dove è avvenuto l'incidente, nella posizione di sicurezza. La barella si chiama Skibboard, è una barella di Northwall Innovation, che ha la peculiarità assolutamente veneristica di essere trascinata e non più sollevata. Grazie ad Inese abbiamo dimostrato che è estremamente sicura e non somministra nessun genere di vibrazioni pericolose al corpo del paziente quando viene caricato. Grazie anche a questa barella, non solo a questa barella naturalmente, abbiamo avuto un grandissimo riconoscimento da parte di tutto il mondo della MotoGP. Nel 2013 ci ha riconosciuto come miglior medical team del circuito e ci ha anche chiamato a febbraio del 2013 a Ginevra a una conferenza internazionale della Federazione Internazionale di Motociclismo per presentare i nostri risultati e anche il lavoro scientifico prodotto insieme a Northwall Innovation, da Inese e il centro medico del circuito di Misano Adriatico. Grazie a tutti.